Buonasera, eccoci ancora qui con voi per fare un altro pochino di ginnastica. Stasera proviamo a fare qualche esercizio per gli arti inferiori. Andiamo in piedi e cominciamo. Puntiamo il tallone, cerchiamo di tenere la gamba bella dritta e poi spostiamo la punta del piede, prima fuori e poi dentro. Lo facciamo qualche volta con la destra, cambiamo e qualche volta con la sinistra. Dentro e fuori, dentro e fuori. Possiamo sciogliere un attimo e poi lentamente alzo, prima la destra e poi la sinistra. Se vogliamo ci possiamo anche chiaramente attaccare e ne facciamo una decina. Sciogliamo e poi teniamo le ginocchia una vicina all'altra, sempre attaccandoci se vogliamo e portiamo i talloni verso il sedere, facendone sempre una decina da una parte e una decina dall'altra. E ancora sciogliamo. Facciamo l'ultimo per le caviglie, sempre ci attacchiamo e facciamo delle circonduzioni. 4-5 da una parte e poi cambiamo verso 4-5 dall'altra. Cambiamo piede, 4-5 in un senso e 4-5 nell'altro. Ecco qua. Buona serata a tutte e a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao!